La disfagia è un sintomo tipicamente legato a patologie dell'esofago, mentre la dispepsia è legata a patologie del tratto gastrodenale. Essa ha una distribuzione epidemiologica enorme, milioni di persone infatti ne soffrono, ad esempio negli USA abbiamo una percentuale del 26%, correlato anche a una dieta poco sana, mentre in Africa tra il 62% e il 69%, ma sono dati un po' dubbi questi, mentre in Europa ci attestiamo tra il 20% e il 41%, in Australia un 13%. La dispepsia non rappresenta un unico sintomo, bensì un corteo sintomatologico che può comprendere o dolore o una sensazione spiacevole, quindi di sconfort, a livello dell'area epigastrica, quindi alla bocca dello stomaco. La sensazione spiacevole può essere una sensazione di ripienezza epigastrica post-prandiale, può essere una sensazione di sazietà precoce, di gonfiore epigastrico, di nausea, in genere non seguita da vomito. I criteri di definizione sono criteri che vengono redati da esperti che si riuniscono ogni 10 anni circa. Non cambiano praticamente niente dal punto di vista dell'approccio terapeutico, ma cambiano la definizione della patologia. Gli ultimi redatti sono i criteri Roma 3, che sono quelli di attuale utilizzo e attraverso i quali con l'esofago gastro-diodenoscopia si distingue la dispepsia in dispepsia organica e dispepsia funzionale. La prima è data da un'alterazione viscerale come un'ulcera gastrica o un cappa gastrico, mentre la funzionale è data da alterazioni digestive funzionali in assenza di patologie organiche evidenti, assolutamente benigna e molto più comune, infatti rappresenta oggi i quattro quinti dei casi. Nel corso degli anni si è assistito a un progressivo aumento della percentuale di dispepsia funzionale, con invece una diminuzione delle forme organiche. Questo secondo gruppo, in accordo con i criteri Roma 3, è suddivisibile in altre due sottoclassi, anche se nella maggior parte dei casi il quadro sintomatologico è misto dal momento che la suddivisione è basata solo su descrizioni dei sintomi dei pazienti e non esiste un esame strumentale che permetta di distinguerle. Abbiamo soggetti con la sindrome da dolore pigastrico, con dolore bruciante pigastrico di moderata o grave severità, presente almeno una volta alla settimana, intermittente, quindi sia adottomaco vuoto che pieno, un dolore non generalizzato né localizzato in altre aree addominali o toraciche, che non diminuisce in seguito ad effecazione o flatulenza, che non fa i criteri di diagnosi per disturbi di colecissi o dello sfintare di oddi. E poi abbiamo i soggetti con sindrome post-prandiale, che sono affetti da un senso di ripienezza dopo un passo normocalorico e o da sazietà precoce intesa come incapacità di terminare un passo normale a digiuno. Il paziente invece risulta stare bene. Per fare diagnosi di F, tali sintomi devono essere presenti negli ultimi tre mesi ed essere iniziati almeno sei mesi prima della diagnosi. Il malato dispeptico ha sintomi che durano da tempo perché la dispepsia, come tutti i disordini intestinali, è una malattia cronica e come tale ha un andamento ondulante con riacutizzazioni e remissioni. I meccanismi fisiopatologici alla base di questa patologia sono molteplici. Abbiamo gastroparesi con una prevalenza del 30% e quindi un ritardo di svuotamento gastrico al di sopra delle due ore che induce ripienezza post-prandiale e nausea. Abbiamo un'alterazione dell'accomodazione nel 40% dei casi. Il cibo inizialmente si posiziona a livello del fondo dello stomaco che tende a dilatarsi e quando questo rilasciamento del fondo gastrico avviene in maniera incompleta e inadeguata può essere causa di sozietà precoce. Esiste poi un pacemaker gastrico a livello di due terzi e la grande curvatura con un'attività di 3 cicli minuto che permette allo stomaco di svuotarsi. Talvolta è presente il tachigastria che raggiunge anche 9-10 cicli minuto ed è impensabile che il cibo possa venire trattato nel modo adeguato. Possiamo poi avere nel 60% dei casi ipersensibilità viscerale. I recettori si attivano subito causando sensazioni spiacevoli e quindi discomfort per deboli variazioni di pressione a livello dello stomaco. Possiamo avere poi ipersecrezione acida gastrica solo nel 5% dei casi. In realtà non gioca alcun ruolo nella genesi di questi disturbi. Abbiamo poi l'infezione da elicobacter pylori che è positivo nel 40% dei pazienti dispeptici. Ciò che ha fatto cadere definitivamente in realtà l'ipotesi di un ruolo principale dell'elicobacter pylori nella genesi della dispepsia sono stati gli studi sui trial clinici. Infatti prese due categorie di pazienti affetti da dispepsie positivi da elicobacter pylori. In quelli trattati con PPI e antibiotici la gastrite è passata ma la dispepsia no. In quelli solo con PPI sia gastrite che dispepsia rimanevano invariate. Si è quindi concluso che il guadagno terapeutico dovuto all'eradicazione dell'elicobacter pylori è veramente scarso. In letteratura poi ci sono alcuni casi di dispepsia post-infettiva che insorge due o tre mesi dopo una banale gastroenterite virale o batterica durata 48 ore e regredita. L'eziologia non è stata ancora ben chiarita tuttavia. La diagnosi in realtà è una diagnosi clinica ma se si vuole pensare a una diagnosi strumentale ciò che è utile è l'endoscopia per distinguere la dispepsia organica da quella funzionale ed eseguire dei prelevi bioptici. L'esame radiologico non è raccomandato perché ha inferiore sensibilità e specificità e poi si può fare una tacca dominale. Non serve a nulla in presenza di sintomi dispeptici, serve solo per vedere l'itiasi biliare per la quale l'80% dei soggetti e asintomatico nel 20% dei casi in cui è asintomatica ciò che insorge una colica biliare decisamente diversa da sintomi dispeptici o per problemi pancreatici caratteristati da dolore, calcificazioni, stato arredi e diabete. L'iter diagnostico per diagnosticare la dispepsia funzionale è interrogare bene il paziente e valutare l'età. In un paziente giovane ci orienteremo verso una dispepsia funzionale, in un anziano invece valuteremo l'origine organica, soprattutto se fino ad allora non ha avuto sintomi dispeptici. Se c'è familiarità per ulcira peptica o cappagastrico, si fa un'analisi dei sintomi, quindi la durata, la severità, la cronicità, l'insorgenza, il consumo di pansella, la dieta del paziente. Si fa caso ai segni d'allarme, quindi caluponderale, anemia, disfagia, vomito ricorrente, mazza addominale, linfadenopatie. Agli aspetti psicosociali, quindi la prognosi e la patologia è buona, i pazienti presentano sintomi dispeptici ma non hanno ripercussioni negative dal punto di vista generale, non dimagriscono e possono convivere per tutta la vita con questi disturbi che non sono mai causa di morte, ciò che risulta essere alterato è la qualità della vita di questi pazienti, anche perché la persistenza dei sintomi li porta a pensare di avere patologie più gravi. Si può poi fare un'eventuale valutazione della presenza di altri sintomi gastrointestinali, come ad esempio sintomi che si riferiscono all'esofago come il functional heartburn, quindi un disordine che si associa più frequentemente ai sintomi da dispepsia funzionale, in particolare alla post-prandiale. Uno studio fatto a Genova proprio dal professore Savarino nel 2009 ha dimostrato che c'è un'alta sovrapposizione di soggetti affetti da patologie esofagee che presentano anche dispepsia. I pazienti NERD ad esempio seguiti con pH-metria 24 ore si suddividono in pazienti con eccesso di acido nell'esofago, pazienti con esofago ipersensibile all'acido, pazienti con esofago ipersensibile al non-acido e pazienti con pirosi funzionali, che sono soggetti che hanno sintomo tipico del reflusso da pirosi ma non hanno tutti gli esami negativi. Pertanto sono considerati a parte in una categoria che viene definita disturbi funzionali, che sono spesso complessi in quanto comprendono allo stesso tempo esofago, stomaco e intestino. Per quanto riguarda la gestione del paziente con dispepsia, se ci sono sintomi d'allarme, il dispeptico va indagato con EGDS. Se invece i sintomi d'allarme non ci sono nel paziente giovane, allora si farà un trattamento sintomatico per 4 settimane, ad esempio in caso di dolore si fa PPI, in caso di discomfort invece si dà un procinetico. Se il paziente risponde si continua con terapia di mantenimento, altrimenti si ricerca l'ilcobacter pyloris, cioè l'ilcobacter si fa eradicazione, se non c'è si incrementano i dosaggi o si può passare a farmaci psicotropi a basso dosaggio che vanno ad agire sull'ipersensibilità viscerale. Non si può trattare chirurgicamente.